Il mio patrimonio è zero, anche te sei stirato? Io zero, io non ho mai lavorato in vita mia, io non ho intestato nulla, neanche la macchina, zero. Quindi niente, 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 stirato. Io mi son ballato orologi, case, cioè ho fatto disastri. Io a quest'ora se non avessi giocato tra palazzi, un bel palazzo a Milano, ma è una zona di merda, posso dire merda nuova? Una zona brutta, a quest'ora c'era un bel palazzo. Ma che vita avrei fatto? Che vita avrei fatto? A centellinare per andare fuori la sera a mangiare, a dire no gioco poco perché se no non posso, non mi interessa, un domani vado sotto i ponti, l'ho messo in preventivo, ho fatto così.